Ora, il problema è, cari colleghi del PDN, che in Italia ci siamo anche noi, e le domande che voi non vi fate, le domande che voi non vi fate, ve le facciamo noi, a una a una. A proposito anche dell'intervento di Eri e dell'Onorevole Scicchio, cominciate a rispondere a queste domande, ma pensate o no di avere qualche responsabilità se l'Italia è là dove non doveva essere, sul punto più esposto della crisi, non c'era ragione che fosse monetica, non c'era ragione che fosse un squilibrio di finanza pubblica, più spesa corrente, più tassazione, più debito, ancora prima della crisi. Colleghi leghisti, venite a dire di recessione, ma lo sapete che era il 2007 che noi perdiamo 20 punti di evoluzione industriale, lo sapete che sono cinque anni vuoti che il regno delle famiglie va giù e quindi i risparmi e quindi i consumi. Allora, 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 attenzione bene, ci si è raccontato in quegli anni che la crisi era psicologica, che stavamo meglio degli altri, voi ci avete raccontato questo, siete stati degli irresponsabili, degli irresponsabili, voi e tutti quelli in giro per l'Italia che hanno fatto finta di credervi, sperando che si bagnasse solo la terza classe, per egoismo sociale.